Sta andando anche meglio di quel che pensavo Ciao, io sono Veronica e vi do il benvenuto in questo nuovo video Oggi volevo fare il resoconto, il bilancio delle letture che ho portato a termine fino ad ora che siamo ormai quasi giunte giunti a metà dell'anno e volevo appunto fare il punto della situazione so che gira su Youtube un book tag apposito io non seguirò alla lettera quelle che sono le domande di quel book tag ma andrò un po' diciamo abbraccio inizierei a parlare di quelli che sono stati i libri che mi hanno più delusa in questa metà di anno e mi aiuto con il mio profilo Goodreads Perché non mi ricordo tutti i libri che ho letto in questo inizio anno? Il libro che mi è piaciuto di meno è anche il primo libro che ho letto quest'anno ed è La luce che pioveva di Giuliana Zeppegno è un romanzo che narra di un rapporto madre figlia è scritto in seconda persona singolare ed è ambientato in Piemonte perché non mi è piaciuto non mi è piaciuto perché purtroppo in questo romanzo ho trovato troppe troppe cose che avevo già letto, avevo già visto e scoperto con altre autrici in altri romanzi e devo dire che in alcuni punti mi è anche un po' infastidita proprio perché essendoci molto di altre voci di altre autrici ho trovato dei passi che mi sembravano un po' troppo presi dai libri di Erno Erno è una delle mie scrittrici preferite quindi per questo motivo mi ha molto infastidita leggere qualcosa di troppo simile poi sicuramente se non avessi letto alcuni testi, alcuni libri magari l'avrei apprezzato di più perché comunque è scritto molto bene ma appunto avendo letto proprio tanti romanzi su rapporti madre figlia eccetera per me non ci siamo altro libro che non mi è piaciuto ma più che altro che mi ha molto delusa è il racconto dell'ancella perché io mi aspettavo qualcosa di diverso mi aspettavo una protagonista scoppiettante con un carattere forte eccetera e invece ho trovato l'esatto opposto quindi è un romanzo che non mi ha convinta nonostante mi sia piaciuto molto il tema come ha deciso di trattarlo appunto è un romanzo distopico sicuramente lo conoscerete comunque anche in questo caso ci sono state diverse cose che non mi hanno permesso di apprezzare appieno il romanzo quindi finisce in quelli che per il momento di quest'anno non mi sono piaciuti altri libri che non mi sono piaciuti ah sì c'è il profeta che io ho letto così in realtà non ho mai avuto tutto questo grande interesse per questo libro però ce l'avevo in libreria e siccome ne ho sempre sentito parlare molto bene ho detto perché non leggerlo quindi ho deciso di leggerlo ma secondo me soprattutto per una persona adulta le cose che vengono dette all'interno del libro sono un po' banali un po' forse anche superate in alcuni casi insomma non ci ho trovato niente di così significativo almeno per me e quindi purtroppo devo dire che anche questo libro finisce in quelli che per il momento non mi sono piaciuti dimenticavo La bella estate di Pavese che ho finito di leggere mi pare lo scorso mese non so se era lo scorso mese o già questo comunque no cioè non mi è piaciuto perché anche in questo caso trovo che in particolar modo i personaggi non fossero poi così ben caratterizzati o meglio erano molto stereotipati non mi ha coinvolta non mi ha presa proprio per niente si è lasciato leggere come libro perché Pavese scrive molto bene e poi è molto semplice da seguire quindi sicuramente è un libro che va ce lo inizi e lo finisci difficilmente lo abbandoni però non ci siamo penso proprio che questi siano i libri che non mi sono piaciuti che siano tutti questi sono in realtà parecchi speravo fossero meno perché non ho letto tantissimi libri in questa metà dell'anno ho letto soltanto portato termine soltanto 29 letture e mi ero prefissata diciamo come sfida di Goodreads una sesantina l'altro anno ho superato i 70 libri letti però comunque ho voluto non ho voluto eccedere mi sono prefissata un numero raggiungibile facilmente raggiungibile da me e quindi diciamo che sono a metà sono stati mesi ho passato dei mesi un po' difficili che non mi hanno permesso di leggere tanti libri infatti non pensavo in realtà di essere arrivata comunque a 29 libri letti perché davvero ci sono stati mesi in cui ho letto un libro o neanche non ne ho neanche terminato uno quindi non credevo invece sta andando anche meglio di quel che pensavo per quanto riguarda le letture abbandonate ne ho abbandonate diverse per diversi motivi ma l'unico libro che ho veramente abbandonato perché non mi stava prendendo e non mi piaceva ma in particolar modo mi stava terribilmente annoiando è Bagheria di Dacia Maraini è un romanzo autobiografico e quindi diciamo che è il pane per i miei denti di solito i romanzi autobiografici mi fanno impazzire questo l'ho trovato noioso ma l'ho trovato noioso perché oltre al racconto delle vicende della sua vita ha inserito delle parti che a me sembravano puramente giornalistiche e che non ho trovato neanche il senso della loro presenza all'interno del libro non lo so non l'ho proprio capito non mi ha convinta per nulla non mi ha colpita non mi ha... cioè proprio ho letto una sessantina di pagine ma a fatica perché veramente dopo aver letto 20 pagine 25 già sentivo che non era il libro per me non lo so ho altri libri di Maraini ma dopo questa esperienza sono molto dubbiosa non so se leggerò altri sui libri o comunque non quest'anno perché la delusione è ancora molto forte molto viva quindi non non ho intenzione di leggere altri sui libri in questo momento in questo anno appunto passando alle cose più belle devo dire che quest'anno ho scoperto il mio autore preferito che è Perek ho già parlato in lungo e largo di questo autore perché me ne sono follemente innamorata ho letto diversi suoi libri e sto continuando a farlo e sicuramente nei propositi di questa continuazione di anno ci sarà il fatto di leggere tutti i suoi libri perché mi sono proprio fissata ce l'ho ammetto mi sono fissata con questo autore quindi voglio assolutamente leggere tutti i suoi libri e oltre a Perek c'è anche un'altra grande scoperta che ho fatto che è Massimo Bontempelli che è anche un autore che mi è piaciuto molto ho letto soltanto un suo libro ma che è Gente nel Tempo ma ho recuperato altri suoi scritti e anche qui credo che procederò nella scoperta della narrativa di questo autore perché mi ha piacevolmente sorpresa non pensavo di trovare una trama così ben costruita personaggi con una personalità davvero interessante e multisfacettata insomma ho trovato un autore pazzesco che non conoscevo non avevo proprio mai sentito nominare e sono molto contenta di averlo scoperto così come appunto sono contenta di aver scoperto Perek ma questo inizio anno è stato anche un inizio anno di riconferme perché è uscito il libro di Ines Cagnati il giorno di vacanza che ho letto piacevolmente e probabilmente mi è piaciuto pure più di Genilla Matta bellissimo questa autrice altra autrice secondo me è formidabile e quindi sicuramente questa è stata un'ottima riconferma altra riconferma è stata Tove di Itlefsen perché è uscito appunto Dipendenza che è l'ultimo libro della trilogia di Copenaghen che è appunto la trilogia autobiografica dell'autrice non potevo non amarla perché ovvio le autobiografie per me sono la vita fra le scoperte di quest'anno mi stavo dimenticando c'è anche Guadalupe Nettel che è un'autrice che ho incontrato probabilmente per caso perché non mi ricordo dove ne ho sentito parlare comunque il suo libro che mi è piaciuto di più perché ho letto sia La figlia unica sia Il corpo in cui sono nata La figlia unica è assolutamente il suo libro che mi è più piaciuto tra l'altro ho scritto anche raccolte di racconti insomma ci sono altri sui libri che ho intenzione di recuperare per capire meglio appunto questa autrice e sono felice di averla scoperta quest'anno perché nonostante tratti più o meno sempre i temi che più mi interessano più mi piacciono maternità rapporto madre e figlia insomma storie familiari lo fa in un modo diverso rispetto alle autrici gli autori che sono solita leggere quindi è stata una scoperta molto interessante stessa cosa potrei dire di Jamaica Kinkaid che è un'altra autrice che ho scoperto quest'anno e tra l'altro ho visto che ha una produzione abbastanza vasta quindi insomma ho tanto da recuperare di questa autrice e se non la conoscete vi consiglio di andare a dare un'occhiata appunto alle sue pubblicazioni perché scrive dei libri davvero molto interessanti con al centro dei suoi racconti le questioni identitarie antirazziste anticoloniali quindi molto interessante questo punto di vista che mi mancava e sono felice di aver trovato pronto nei suoi scritti passando alla saggistica devo dire che quest'inizio anno non ho letto tanti saggi ma ne ho letto uno bellissimo che è Fat Shame è un saggio che appunto parla dello stigma del grasso di come è nato questo stigma del grasso e di come questo abbia una correlazione con le questioni appunto di etnia di genere e di classe secondo me è un libro molto attuale che andrebbe recuperato per comprendere molti meccanismi che agiscono anche inconsapevolmente su di noi nel vedere il grasso come una minaccia come un qualcosa che vada estirpato che vada considerato come degradante avevo già letto queste tematiche in altri libri e devo dire che in questo però ho avuto molti elementi in più soprattutto per quanto riguarda la nascita l'origine di questo stigma del grasso che appunto non avevo ancora compreso appieno e in questo libro viene spiegato molto bene in modo molto dettagliato quindi ho apprezzato moltissimo questo saggio nonostante sia in alcuni casi un po' prolisso però davvero un saggio estremamente consigliato caldamente consigliato terminato il resoconto delle letture di questo prima metà dell'anno devo dire che ho intenzione di continuare e procedere con le letture di quest'anno andando a innanzitutto recuperare alcuni libri di saggistica che non ho ancora letto come ad esempio i saggi di Harari che sono anni che mi dico veroleggili e poi alla fine non li leggo mai io spero di avere l'occasione soprattutto quest'estate di cimentarmi nella lettura dei saggi di Harari perché mi interessa molto l'argomento quindi vorrei andarli ad approfondire ma oltre a questo mi piacerebbe tanto innanzitutto leggere la saga dell'amica geniale perché ho letto diversi libri di Ferrante ma mi manca il fulcro della narrativa di Ferrante ovvero l'amica geniale e quest'anno vorrei assolutamente propormi e vorrei farlo cioè vorrei leggere l'amica geniale una volta per tutte quindi sicuramente ho in mente questo e ho anche in mente di leggere qualche mattoncino perché per il momento ho letto comunque tutti i libri molto brevi e quest'anno almeno un bel romanzone lungo mi piacerebbe leggerlo non ho ancora idea di quale sarà il titolo papabile il titolo fortunato che finirà nelle mie mani e che quindi deciderò di leggere nel resto dell'anno però comunque l'idea c'è l'idea c'è ce la posso fare oltre a questo pensavo anche di recuperare un po' di raccolto e di racconti perché li ho sempre snobbati un po' ma devo dire che i racconti possono essere molto interessanti proprio magari da leggere non in modo continuativo ma ogni tanto leggere un racconto ecco vorrei sperimentare un po' in questo senso oltre al fatto che mi piacerebbe tanto continuare un po' come ho iniziato quindi esplorando magari dei scrittori scrittrici o comunque dei testi non europei o comunque non italiani e francesi perché poi alla fine io finisco sempre in romanzi italiani e o francesi vorrei uscire un po' da questa mia zona di comfort e buttarmi su delle letture un po' diverse in modo da capire anche culture diverse dalla mia vorrei impegnarmi in questo è sempre difficile per me uscire da quelli che sono i miei schemi perché diciamo che alla fine torno sempre su quelle letture di conforto ma voglio impegnarmi cioè voglio provare a leggere qualcosa di diverso ovviamente sempre rimanendo in quelle che sono le tematiche che più mi interessano quindi romanzi familiari così di questo tipo però comunque andare a vedere che cosa c'è al di fuori dell'Italia e della Francia perché sarebbe anche ora perché i buoni propositi serve anche ricordarli a metà anno o comunque proporne di nuovi perché male non fa quindi questo era un po' il bilancio delle mie letture che ho portato a termine in questa prima metà di anno fatemi sapere nei commenti come stanno andando le vostre se questo video vi è piaciuto mi invito a lasciare un like e noi ci vediamo al prossimo video grazie a tutti